Salve! Ma cosa ci fai con questo cappello da imbecille in testa? Beh, sono appena tornato dal Video Game Show di Napoli. Ecchi tecchi. E proprio dal Video Game Show di Napoli è successa una cosa... curiosa. Con la più classica delle botte di culo, infatti, sono riuscito a vincere il torneo di Mario Kart 8 che si è tenuto il terzo giorno e a portarmi a casa una copia di Pokémon Rubino. E che cazzo ce ne frega a noi, starete pensando? Beh, un pochino vi frega per il semplice fatto che io avevo già ordinato un'altra copia di Horus per completare il cerchio, così avevo Zaffiro, Rubino, tutti felici, cioè Pokémon esclusivi. Quindi in questo momento mi trovo con non una ma ben due copie di Horus da regalare a voi. E guardate un po', non sono neanche tutte e due normali, ma è una è limite, ovvero con la steelbox, la scatola, cazzi e mazzi, mentre un'altra è normale. Infatti saranno i premi per il primo estratto e per il secondo estratto del contest che parte oggi e finirà ad una settimana da adesso. Come funziona? Allora, molto semplicemente, esattamente come nel mio contest precedente, si dovranno vedere tre video, ovvero questi tre. Come l'ultima volta, voi dovete guardare questi tre video e dirmi quale vi è piaciuto di più e perché. Magari vi è piaciuto il video 1 perché era divertente, vi è piaciuto il video 2 perché vi è piaciuto il significato oppure il terzo era ben montato. Insomma, datemi la vostra preferenza al riguardo. scrivendomi qual è il vostro video preferito tra i tre e perché. Fatto ciò dovete condividere questo video, questo non il video del scelto dai tre delle robe, ma proprio questo in cui mi state vedendo parlare, su Facebook, in modalità pubblica. ed inserirei nella condivisione l'hashtag Dagger Giveaway Horus, in ogni caso la trovate scritta in descrizione. Fatto ciò non dovete far altro che lasciare il culo sulla sedia e aspettare che passi una settimana. Tra una settimana da adesso, infatti, attraverso random.org come il mio precedente video, estrarrò i due vincitori, al cui primo andrà una copia a scelta tra Rubino e Zaffiro di Horus Edizione Limitata e una copia a scelta di Rubino e Zaffiro della versione normale di Horus. Quindi dovete seguire le regole che ho messo da qualche parte, non so se qui sono da qualche parte, seguire queste regole ognuna senza saltarne neanche una, e io, a una settimana da adesso, prenderò i due vincitori, li contatterò, i vincitori mi diranno se preferiscono una copia di Rubino o di Zaffiro in entrambi i casi e io vi spedirò il tutto a casa, non dovete neanche muovere un dito. Come nell'altro video, evitate i doppi commenti perché significherebbe non dare a tutti le stesse possibilità di vittoria. È permesso un solo commento per ogni persona. Se magari volete dirmi la preferenza su due video, scrivetela sempre nello stesso commento, quindi se magari vi è piaciuto il video 1 e il video 3, scrivetelo sempre in un solo commento, e se invece volete farmi semplicemente delle domande, vi ricordo che, come in ogni video, nella descrizione è presente la mail per contattarmi. Potete semplicemente scrivermi una mail lì senza problemi. Vi ricordo che è meglio scrivermi su quella mail invece che mandarmi un messaggio privato su YouTube, perché su YouTube il sistema è diventato una merda e YouTube stesso non ti avvisa quando ti arriva un nuovo messaggio privato. Dovete voi avere il culo che io per sbaglio vado sulla cartella dei messaggi e lo trovo. Infatti ho trovato dei messaggi di settimane fa che non avevo idea che fossero arrivati perché YouTube non ti avvisa di una leppa. Bene, detto questo, ho concluso. Vi ricordo di seguire tutte le regole e poi aspettare panciollamente finché non passa una settimana che ci sa l'estrazione con random.org dei vincitori e nulla. Se questa iniziativa vi piace, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su a questo video e nulla. Ci vediamo in un prossimo video. Grazie